Oggi è sabato 7 settembre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 7 settembre 1927. Nel proprio laboratorio di San Francisco in California, l'inventore Philo Farsworth realizza la prima televisione elettronica. La definizione è dovuta al fatto che sia l'apparecchio di ripresa delle immagini sia quello di visione sono realizzati con un tubo a raggi catodici, un dispositivo elettronico inventato dal fisico tedesco Ferdinand Brown nel 1897. La televisione elettronica nasce due anni dopo la televisione elettromeccanica, un dispositivo rimasto allo stato embrionale e diffuso solo in alcune zone. A inventarla il 2 ottobre 1925 è lo scozzese John Logie Byrd, un meccanismo a disco, scansione e riproduce le immagini in scala di grigio. La prima trasmissione avviene dal suo laboratorio alla stanza accanto. Riprende il volto del fattorino dell'inventore che si presta all'esperimento. Nel 1927 Byrd, attraverso un normale cavo telefonico, realizza la prima trasmissione a oltre 700 chilometri di distanza da Londra a Glasgow e l'anno successivo, utilizzando il cavo sottomarino, da Londra a New York. Lo stesso anno riesce anche a trasmettere le prime immagini a colori. Nel 1939 però, la televisione elettronica prende definitivamente il sovravvento e diventa lo standard mondiale. La tecnologia di base è rimasta sostanzialmente immutata, anche se negli apparecchi di ripresa sono oggi impiegati dei circuiti integrati e in quelli di visione plasma, cristalli liquidi e diodi, mentre altre tecnologie sono in fase sperimentale. A 92 anni di distanza è comunque l'intuizione di Farnsworth che ci permette oggi di ascoltarci e vederci in questo momento agli estremi opposti di questo schermo che ci divide. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto per renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata!